eccoci qua partita a fortnite con una futura youtuber esperanza fai ciao esperanza ciao ciao youtube dai quant'è che non giochi nel po ma ti ricordi i tasti adesso vediamo anche questo va su youtube è teorico lo vedi stasera perché non hai contenuti per oggi la music stavo pensando perché hai iniziato a lavorare nel più buon tempo è questione di idee allora se vuoi si può atterrare vicino a quegli aerei lì che c'è il robot di stark 26 vai dai e qua c'è un cattivo nuovo io posso andare anche qua mamma mia tanta gente qua siamo vicini ma basta tutti qua indori con te sì 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 vieni vieni è libero abbastanza libero e scatti per me no occhio qua sotto forse ce n'è uno scendi qua scendi qua aspetta vedi qualcuno ho occhio qua c'è una telecamera va e qua c'è quella lì mamma mia adesso dovrebbe arrivare uno è passi è passi sì 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 lo chiuso fuori vai prendi prendito dai io c'ho questa aspetta è qua vieni qua armi nuove si si aspetta tu fuori c'è uno lì ma è un robot ma che entra aspetta 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 ancora passi vedo vado pieno di robot qua eh ok dai vedi se c'è qualcosa arrivando al tipo questo è peso qualcosa è trovata non attendi a ciò programmi sono dei passi che avevano o no cos'è peso cosa devo prendere buono goloso le schieman da giù eh beh per forza uno si sta medicando è qua sotto è qua sotto mi sento è sul tetto occhio cosa vuoi fare sei sicura che sia qua si come è sotto qua ho sentito aprire la porta ci sei vuoi provare ad andare giù ci sono due si stai arrivando sta ferma sta ferma che ha caricato il ok arriva l'alto arriva l'alto arriva l'alto arriva l'alto è ancora carico è ancora carico vieni 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 babaluco è qua è qua uno morto per terra ne esce un altro esce un altro e qua qua e qua uccidilo adesso adesso uccidilo 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 grandissima salvami 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 molto brava e ci hanno lasciato qualcosina anche dopo fargli il balletto lo faccio io il balletto basta sì passi passi ma che arriva arriva e mi serve medica su ciò so io poi maia ladrone bravissima e lì li devi abbattere poi vai lì e gli aceri e tu vai al castello o vai direttamente là no no e non puoi andare direttamente là ti ammazano gli aceri e combattono per te gente quindi gente qua sì mercoledì dove sono ma dai non ci credo non ci credo mi hanno ciavato il ecco qualcosa ti stanno beccando a te o stai sparando aiutalo morta è sotto là eccolo morto aiutami aspetta dov'è l'altro io l'ho ammazzato l'altro hai ammazzato ok ok vieni qua mamma mia sono rimasto con se sette sette infatti ho detto ciao mi ha salvato il il coso to 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 ecco li là sono in due li vedi quanti forti sono sono avversari quelli là l'ho sparato io 22 li ho fatto ti sta sparando morto uno anche quelli ali sono camperati dietro la vedi la il muro di legno sì ma chi sono sono nemici quelli là tipo normale sì sì lo vediamo volano volano ok dov'è dov'è non ci casca sopra la testa perché se no ci frega eccolo vieni 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 no ho sbagliato prendi fucile di toni prendi fucile di toni arrivo aspetta questo questo buono questo questo buono ah e vedi i droni che volano non ci sono i droni dove sei i droni c'è neanche un drone via 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 scappa 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 mamma mia mi sa costruire sono giù vieni qua ma adesso sono giù non riesco a salire sali vai lì vai lì vai dritta lì pronta a salire sali sali hai ancora quelle le curabombe lo sto andando no non ho mai amici le curabombe quante vite hai? è sommesso peggio io? ma ecco lì c'è gente lì davanti pronta e va che oh ma arriva sto cerchio o no? hai un medikit? mamma mia sto cerco a mai 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 fermati fermati no entra 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 ho tre di vita ho tre di vita c'è il furgone là c'è il camio quello con lo slurp e scendiamo che la priaga salta giù qua mamma mia che respiro per fortuna ma mi senti? è che ne sapevo io che era tutto non finiva più pensavo fosse finita a un certo punto ma c'è qualcuno là è quello lì è dietro l'albero se non ho visto male è quello lì sta prendendo a mira occhio tu stai sparando mi sta sparando pigelo se già fai vai un po' da destra da destra mi sta sparando ho chiudito il te vieni giù vieni giù vieni giù è morta quanto è rimasto? ma dai gli ho tolto il mondo gli ho tolto allora adesso io direi andiamo posto sicuro posto che non si sbaglia mai però è pieno e allora andiamo qua sì un altro ti piaceva Brugliere? bel posto per morire andiamo nella prima parte o nella seconda? io vado qua è sempre là che noia eh qua c'è il top sì vedrai tu scendi qua 5-6 armi le trovi subito anche qualcosa in più di 5-6 oh 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 leggendario tan 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 cecchino bro ci smorziamo subito passi vicino a me passi vicino a me passi vicino a me una pistoletta scrabbi eccolo sta arrivando eh cara mia get down get down uno ho fatto fuori gli ho fatto un agguato gli ho fatto un agguato visto che ci sono le bombette qua che quando le lanci quegli altri ballano l'avversario si perde a ballare e quindi tu puoi sparargli cos'è quel cerchio? cos'è quella luce là a destra? sparano a me arrivo dai una mano arrivo aspetta riesco a capire ecco qua lurido aspetta un attimo ti faccio saltare le bidelle adesso chi è che spara? spari sud-est sud ecco est est la li vedi? spiaggetta spiaggetta morto uno uccidi quell'altro uccidi quell'altro in acqua in acqua in acqua in acqua luridigno 100 andati via 33 buonissimo buonissimo ok ancora 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 spari dove dove vieni 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 andiamo dentro andiamo 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 mi prendo il flop mi spara sta sparando in acqua muoviti a zigo zago non mi sta prendendo non ti sta prendendo ma adesso lo fioccino io vieni qua è un po' aperto occhio mi spara a destra a destra vicino al ponte la casetta del ponte tu sei non lo vedo però lo vedi? eh ma ci sono spari da quella zona là ma andiamo avanti come sei già avanti te mamma mia potente è la comunicazione mi sparano mi sparano da sinistra da parte alta riva lo vedi è per terra è per terra è per terra lo vedi? è un coso non lo vedo però non lo vedo dov'è il suo duomaro? eccolo là cosa l'ho mancato? di cosa? cosa mancava? si vabbè ecco le panchine ecco è qua è qua è qua arriva l'urido l'urido bravissima spari dritto là l'hai visti? questo è il ta questo è ok ecco qua lo vedi blu azzurrino e pieni nasconditi eh scusa l'ho ammazzato scusami sopra il tetto sopra il tetto eccolo qua 110 110 tolto 110 è tutto lo scudo praticamente è rimasto solo con la vita normale come mi manca il tattico qua col tattico parli di qualche possibilità adesso la vedo dura si deve andare di metallietta allora eccolo qua 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 110 ce l'hai? no ce l'ha manicato uno è morto lì è morto sotto 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 eccolo qua no no che rigore in movimento che ho sbagliato qua 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 dentro che rigore in movimento un babbeo sono un babbeo uno è andato via a sinistra eh uno è rimasto dentro uno è andato via a sinistra mamma mia cosa mi ha sfiorato lurido maiale sporco vabbè dai 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 un po' di bombette vai 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 spara 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 quanto sei tu vabbè lascia farlo ok 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 no no mi basta questo dai siamo in 5 sotto è praticamente morto buonissimo questa idea buonissima gli ho tolto di più è a sinistra dell'albero è a sinistra dell'albero mannaggia ladra sta arrivando ce l'hai uno per terra so casca non riesco aiutarti ma vaffanbrodo continuo a cascare è giù è giù tieni duro tieni duro tieni duro è giù è dietro di te non lo vedo ah la 110 morto è rimasto 1 va che se questa la perdiamo è sotto qua l'hai visto qua dentro scusami 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 è perché non ho tantissima vita ce l'hai ecco è qua è qua è sopra ma vaffanbrodo e sei morta di cosa sei morta di di tempesta è è lui mi ha costruito sopra cosa devo fare sto maiale saluta youtube ai sto registrando ma non registra tutto il tempo saluta youtube è stato bello fare parte di questa puntata dai saluta dai ciao 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 seto saluto ha ha da verona cosa non si sente è andata via la connessione si dai ciao 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 ciao